Una condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla confisca di 470.000 euro più altri 180.000 già restituiti all'ANAS che ha revocato nei suoi confronti la Costituzione di parte civile. Si chiude così il procedimento penale per Antonella a Croglianola, cosiddetta Damanera, responsabile del coordinamento tecnico-amministrativo dell'ANAS e raggiunta da due misure cautelari tra l'ottobre del 2015 e il marzo del 2016. Ma davanti al gruppo del Tribunale di Roma hanno patteggiato in abbreviato altri sei soggetti, cui si aggiungono una condanna e un'assoluzione. Il filone giudiziario è quello che riguarda ex dirigenti dell'ANAS e un gruppo di imprenditori accusati tra il 2012 e il 2015 di aver pagato tangenti per aggiudicarsi gli appalti o sbloccare contenziosi in atto. Proprio la Croglianola è considerata di fatto un vero e proprio deusa ex machina all'interno del suo delizio criminoso. Insieme a lei hanno patteggiato gli altri ex dirigenti ANAS come Oreste De Grossi, Giovanni Parlato e Antonino Ferrante. Tre anni e mezzo invece alla condanna in abbreviato inflitto all'imprenditore Paolo Tarditi, mentre è stato assolto l'ex sottosegretario delle infrastrutture del governo Prodi, Gigi Meduri, già presidente della regione Calabria. Il processo che prenderà il via il 6 marzo per reati che vanno a seconda delle posizioni dall'Associazione per delinquere alla corruzione, dal riciclaggio alla truffa, dal voto di scambio all'abuso d'ufficio alla turbativa d'asta, riguarderà fra gli altri l'ex dirigente ANAS Sergio Lagrotteria, gli imprenditori Concetto Albino Lo Giudice e Francesco Domenico Costanzo, l'ex deputato di Forza Italia Marco Martinelli, già componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera, e Roberto Accrogliano, fratello di Antonella. Ne esce dunque prosciolto Luigi Meduri, tutti i testimoni del processo infatti hanno scagionato l'ex sottosegretario delle infrastrutture. L'accusa nei suoi confronti era di corruzione per aver favorito il pagamento da parte di ANAS di lavori già appaltati ed eseguiti dai cavalieri del lavoro di Catania, gli imprenditori del gruppo Bosco e Costanzo.